Non lo so, mi sento come quella donna in quel programma, come la madre. È come se lei mi stesse intervistando, mi sento in imbarazzo. Ha visto il programma di attualità sulla strage in cui si parlava di lei? No, ne ho visto una parte. Hanno fatto il suo nome e hanno mostrato delle foto, delle mappe. Sì, lo so. E hanno detto che lei non è riuscito a salvare quei ragazzi. L'ho sentito. E questo non l'ha turbata? Come poteva mai turbarmi dal momento che è una distorsione della realtà?